No scusa non volevo interoperare Ma non è che prima ha fatto crashare il server Per creare qualcosa di pazzo, di potente Aia, aia, non mi ha ucciso Potresti chiederlo a Cico che stava raggiando Mentre tu parlavi Mi ha sparato, avevo paura Allora questa è colpa tua Mia Perché vegetando 20 minuti Hai rotto tutti Allora tu devi imparare Che non è un'opzione diventare una carota Per 20 minuti Va bene Ti ci sputo su quella cocuzza io Tu stai zitta perché ce n'è per tutti No, no, no Allora, è chiaro? Però parla perché non stai dimostrando di aver capito Ho capito Bene, ho sentito volare, credo che sia lei Era proprio lei andata a sinistra Ok, però noi non possiamo partire a seguirla Se lei ci sta seguendo a noi È un po' un controsenso E andare in visibilità qui usciamo? E il problema è che se vola non la possiamo raggiungere Non sappiamo dove siamo